Mentre il capo del governo Mario Draghi è dichiarato praticamente finita l'emergenza Covid in provincia, le cose stanno diversamente. È stata inviata ieri una nota dall'Aspaldasoe della Regione e per conoscenza ai sindaci del capoluogo di Gela e di San Cataldo, nella quale il direttore generale Alessandro Caltagirone e il dirigente dello SPEMP Franco Iacono da un lato chiedono l'istituzione della zona d'alto rischio per i tre paesi e dall'altro nella nota consigliano ai sindaci di emanare delle ordinanze restrittive dall'utilizzo delle maschedine all'aperto, al divieto di assembramento, allo smart working ed altre regole che andrebbero addirittura verso la zona rossa. Il sindaco ha convocato il COC ieri alle 18 e ha deciso di inviare una nota nella quale chiede chiarimenti all'assessore regionale alla sanità. Il provvedimento che non viene chiamato zona arancione ma in sostanza di quello si tratta dovrebbe aver durata per un minimo di 14 giorni e un massimo di 21. La valutazione dall'ASPE è stata fatta sui parametri dell'ultima settimana. Sono infatti 816 nuovi contagi in città dal 7 al 14 marzo, con un indice di positività salito nello stesso periodo dal 20 al 23%, con 22 focolai scoppiati nella stessa settimana, con un numero massimo di 5 persone per focolaio, con un tasso di occupazione postiletto del 30% per ciò che riguarda Caltanissette. A breve si conoscerà la decisione della regione.